bentornato gutier bentornata continuiamo nella descrizione del menu che si crea dal pulsante start è ora il turno di gestione dispositivi nella lezione 111 e il rispettivo video tutorial ti ho spiegato lo stesso programma ma per windows 7 ora facciamo richiamo per windows 8.1 a cosa serve in questa sezione vengono riportati i dispositivi installati nel computer ti permette anche di installare o aggiornare i driver dei dispositivi quindi modificarne le impostazioni ed eventualmente tentare una soluzione di problemi ecco una lista di possibilità delle opzioni fornite da questa sezione può stabilire se l'hardware nel computer funziona correttamente cambiare le impostazioni della configurazione hardware identificare i driver per ogni dispositivo ed ottenere anche informazioni utili su di essi modificare le impostazioni avanzate e le proprietà per i dispositivi aggiornare i driver naturalmente attivare disattivare o disinstallare i rispettivi dispositivi rivestinare la versione precedente di un driver visualizzare i dispositivi in base al tipo alla connessione al computer o alle risorse utilizzate oppure visualizzare o nascondere i dispositivi nascosti che potrebbero essere necessari per risolvere alcuni problemi queste opzioni possono variare in base all'hardware che ha installato oppure selezionato con il quale potrà interagire questa sezione la puoi anche esplorare per prendere visione dello stato dell'hardware installato nel computer soprattutto quando qualcosa non funziona correttamente quindi il primo passaggio da eseguire per rilevare ad esempio qualche simbolo di allerta che compare sul dispositivo come un punto esclamativo un punto interrogativo e cose del genere come si avvia molto semplicemente vai sul pulsante start clicca con il pulsante destro del mouse e individua la sezione gestioni dispositivi se tutto funziona correttamente non troverai alcun segno di punteggiatura cosa vedrai dalla visualizzazione predefinita visioni la lista dei dispositivi installati in alto nel menu visualizza trovi anche varie opzioni tra cui mostra dispositivi nascosti che se selezionata ti permette di rendere visibili anche le periferiche che non sono attualmente collegate al pc ma i cui driver sono installati ciò può tornarti utile per disinstallare dei driver e risolvere eventuali problemi come ad esempio conflitti tra le varie periferiche il pulsante azione ti mostra altre opzioni aggiornamento software driver disattiva disinstalla rileva modifiche hardware aggiungi hardware legacy una guida e le proprietà questa lista naturalmente può variare in base al dispositivo selezionato il primo pulsante avvia la procedura per aggiornare i driver se necessario naturalmente con disattiva invece può interrompere la funzionalità della periferica fino alla sua riabilitazione tramite invece disinstalla puoi rimuovere i driver della periferica quindi disinstallarli se però non rimuovi la periferica al riavvio del sistema operativo verranno di norma reinstallati invece rileva modifiche avvia una verifica automatica sull'hardware collegato al pc individuando delle variazioni avvenute che potrebbero non essere state notificate in precedenza nel caso serva avvierà la procedura di installazione automatica o assistita dei driver tramite l'utente il quale nel caso dovrà indirizzare la ricerca verso il supporto che contiene il pacchetto dei driver quindi se tu dovessi installare dei driver vai ad individuare l'ubicazione degli stessi quindi ci sarà una cartella all'interno del quale troverai i driver o avrai posizionato i driver che possa essere magari un cd un dvd o anche una pen drive l'opzione invece aggiungi hardware legacy consente di installare un dispositivo hardware che non supporta la tecnologia definita plug and play che prevede la possibilità di installare i driver automaticamente all'inserimento della periferica magari come può essere una pen drive con il pulsante guida verrà avviata la guida linea della microsoft dedicata a questa sezione l'opzione proprietà aprirà una nuova sezione e puoi visionare tutte le proprietà delle periferiche di impostare alcuni parametri a questa sezione puoi accedere anche cliccando rapidamente due volte sulla periferica dalla lista dei dispositivi questa schermata presenta sotto sezioni variabili ma di norma potrai visionare generale driver dettagli risorse eventi avanzate e risparmio energia anche qui questa lista può variare in base all'hardware selezionato la sottosezione generale evidenzia lo stato del dispositivo se questo funziona correttamente o presenta qualche problema tramite la sottosezione driver puoi visionare le specifiche dei driver della periferica il fornitore la data di rilascio la versione e la firma digitale per lo stesso non solo come puoi vedere da questo screenshot anche visionare i dettagli del driver installato aggiornare lo stesso ripristinarlo ad una versione precedente qualora fosse presente questa opzione disattivare o disinstallare la periferica la sottosezione dettagli invece come ben potrà capire ti fornisce delle informazioni relative al driver da cui potrai attingere dati preziosi qui avrai un menù a tendina che si srotola e ti permette di ottenere delle informazioni utili a tal proposito ti rimando infatti alla serie di lezioni 93 94 95 soprattutto ai relativi video tutorial dove ho spiegato appunto questa sottosezione la sezione risorse indica delle impostazioni della periferica ma la tralascerei in quanto evidenzia dati poco importanti al nostro livello di questo percorso la sottosezione eventi ti permette di ottenere la lista degli eventi che ha interessato tale periferica problemi accensioni disattivazioni eccetera un po utile per individuare eventuali cause di malfunzionamento nella sottosezione avanzate una serie di impostazioni che a nostro livello è poco significativo ma utile senz'altro per cambiare impostazioni in rari casi infine risparmio energia offre la possibilità di spegnere o meno il computer davanti della periferica in caso di necessità soprattutto se stai utilizzando un notebook e lo stai alimentando solo tramite la batteria quindi per risparmiare energia gli altri pulsanti che nodi sotto la barra del menu sono in parte la replica di quanto ho esposto e che potrai utilizzare come alternativa alle interazioni appena spiegate termino avvisando di che eseguire le modifiche di cui sopra in taluni casi comporta la necessità di riavviare il sistema operativo per rendere effettive tali impostazioni a seconda naturalmente tale richiesta nei casi in cui si presenti eccoci in zona pratica andiamo subito ad aprire dal pulsante start gestioni dispositivi con il pulsante destro del mouse estendiamo nella sezione in alto trovi dei pulsanti file azione e visualizza che andranno a cambiare alcuni parametri in base all'hardware che andrai a selezionare come puoi vedere anche i pulsanti che vanno a crearsi varieranno di volta in volta questi pulsanti ti permetteranno di eseguire alcune opzioni che più o meno equivalgono a quanto monitorato dal pulsante destra a quanto visionato dal pulsante destro del mouse sulla rispettiva periferica in particolar modo potresti anche dalla sezione visualizza cambiare il tipo di visualizzazione in base alle due scelte oppure mostrare i dispositivi nascosti che attualmente magari non sono collegati ciò ti potrà tornare utile per risolvere eventuali problematiche dalla sezione azioni puoi trovare una lista di opzioni come detto che può verosimilmente equiparare a quanto selezionato con il pulsante destro del mouse come puoi vedere la lista può variare in base al tipo dispositivo che andrai a selezionare supponiamo di selezionare una periferica e andare ad eseguire alcune opzioni tramite il pulsante aggiornamento software driver potrai scegliere di aggiornare automaticamente i driver oppure cercare i driver in una zona del computer tra il pulsante sfoglia quindi andrai a indirizzare la ricerca da questa finestra dove avrai posizionato il driver da aggiornare quindi una procedura guidata molto intuitiva il pulsante disattiva non fa altro che disattivare ovviamente il dispositivo che ovviamente potrà essere riattivato per poterlo far funzionare altro pulsante è disinstalla ciò ti permette di disinstallare i driver del dispositivo ovviamente non funzionerà non potrà essere comandato fino al alla nuova reinstallazione quindi in questo caso abortiamo questa procedura rileva modifiche hardware ti permette di eseguire una scansione per vedere se ci sono state modifiche all'interno della struttura hardware del pc che in precedenza non sono state notificate quindi potrai sollecitare la ricerca e l'aggiornamento di eventuali driver se il sistema operativo non l'ha notificato a suo tempo andiamo avanti aggiungi hardware legacy ti permette di installare una periferica che in precedenza non è stata riconosciuta dal pc dal sistema operativo perché magari non segue la tecnologia plug and play è una procedura guidata che è simile all'installazione o l'aggiornamento dei driver all'interno del quale ti permette di andare a ricercare automaticamente o installare manualmente i driver della periferica quindi dovrà anche qui indirizzare nella cartella dove avrai posizionato i tuoi driver andiamo avanti la sezione proprietà ti permette di aprire altre sezioni qui hai una risposta sullo stato del dispositivo se tutto funziona correttamente e un'indicazione del tipo di dispositivo il produttore nella sezione avanzate tu puoi interagire con alcune proprietà ma questa sezione non la ritengo utile al nostro livello in driver trovi già opzioni che hai visionato che ti permettono di ottenere i dettagli del driver qui dove è posizionato il driver specifico della periferica quindi potrai andarlo a carpire direttamente per farti una copia di backup senza magari utilizzare programmi di terze parti per eseguire appunto una copia di sicurezza dello stesso nella sezione dettagli puoi visionare altre informazioni relative all'hardware di questo dispositivo e anche in ambito software ti rimando alle lezioni dedicate 93 94 95 dove spiego particolarmente questa sezione che è identica a quella di windows 7 nella sezione eventi tu puoi avere la lista delle informazioni degli eventi che hanno riguardato questa periferica anche eventuali problematiche e una lista più dettagliata dalla sezione visualizza eventi da strumenti di amministrazione nella sezione risorse anche qui puoi trovare dei parametri che a nostro livello sono molto difficili da interpretare ma possono tornare utile per alcuni smanettoni la sezione risparmio energia ti permette di spegnere o riattivare il computer qualora non venisse utilizzato per un certo periodo di tempo può essere utile come dicevo per un portatile per risparmiare le risorse energetiche della batteria ultima sezione è quella relativa al pulsante guida che permette di aprire una guida linea per avere altre informazioni utili da questa sezione qualora tu ne abbia la necessità nella prossima sezione ancora informazioni da questa sezione ora un forte saluto ciao a presto e dalla prossima